La chiesa di Assisi c'era un gravato carino a Gesù, perché uno dei suoi figli più meritevoli, padre Vittorio, viene oggi chiamato a mio suo padre, donato come pastore alla chiesa di Dio che è il dottore. La notte al Signore finisce a grazie a Papa Francesco che lo ha scelto ad un anno dalla visita alla nostra città, nella quale ebbe modo di conoscere e apprezzare personalmente Vittorio. La gioia si accomuna a quella della provincia serafica. Grazie padre Vittorio per tutto quello che sei stato per me e per questa nostra chiesa. Il Signore benedica il tuo nuovo mistero con frutti di santità e di fricolità nostra vita.